pace e bene a tutti santa giornata è bello sempre ritrovarci come fratelli nel cammino sulla strada che ci porta a Gesù in questa strada ieri come oggi come domani fino alla fine tanti uomini tante donne hanno scelto di lasciare una piccola impronta l'impronta dell'amore l'impronta dei figli di Dio la storia che oggi vi voglio raccontare sono sicurissimo che tutti voi la conoscete o meglio conoscete la protagonista della storia se vi dicessi la matita di Dio se vi dicessi una goccia nell'oceano sì parlo di lei della suora piccolina di statura ma grande gigante di santità santa teresa di calcutta la cui memoria ricorre appunto il 5 di settembre oggi vogliamo dedicarla a lei questa questo nostro appuntamento del buongiorno eppure madre teresa ha dei lati che forse non tutti conoscete intanto lei è nata in albania nel lontano 1910 da genitori cattolici a otto anni perde il papà che lasciò la sua famiglia in difficoltà finanziarie l'esempio della madre che si rimbocca le maniche per mandare avanti la famiglia sarà sempre un punto di riferimento nella missione di madre teresa a 18 anni entrò nella congregazione di santa maria di loreto e da subito prese il nome di maria teresa ispirandosi a santa teresa di lisier fu inviata a calcutta dove ricevette la chiamata nella chiamata come lei stessa racconta gesù stesso le disse vieni sì la mia luce e da quel momento la sua missione fu di aiutare non tanto ai poveri ma i più poveri dei poveri nel 1948 fondò le missionarie della carità oggi diffuse in tutto il mondo anche a roma in vaticano dopo un incontro con un altro grande santo san giovanni paolo secondo eppure non tutti sanno che madre teresa per tantissimi anni visse quella che lei definì la notte buia dello spirito cercava il signore ma non lo trovava viveva nel tormento nel buio nell'oscurità ma due cose madre teresa non rinunciò mai a fare aiutare i poveri e stare dinanzi al santissimo sacramento ecco questo è un grande insegnamento che ci lascia madre teresa tutte le volte che siamo nell'oscurità dell'anima e del cuore non dobbiamo mai tralasciare l'amore al prossimo e l'amore a dio che si deve trasformare in preghiera costante un giorno un uomo chiese a madre teresa ma tu chi sei e madre teresa disse io sono solo una goccia una goccia se cade a terra neanche si vede poi madre teresa guardò questo uomo e disse anche tu se vuoi puoi essere una goccia e saremo due poi si unirà a noi tua moglie e saremo in tre e poi avrete degli amici e saremo in dieci ecco tutti noi possiamo essere una goccia non dobbiamo fare grandi cose dobbiamo fare il nostro ma con un carico grande d'amore vogliamo allora sull'esempio di santa teresa di calcutta essere anche noi una piccola goccia scegliete oggi che goccia volete essere goccia d'amore goccia di misericordia goccia di preghiera goccia di fratellanza goccia di perdono goccia di unione goccia di aiuto qualsiasi cosa voi vogliate essere nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen il signore sia con voi vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen in questo giorno così bello ritroviamoci in preghiera alle 14 50 con l'esposizione eucaristica proprio per seguire l'esempio di madre teresa e la coroncina la divina misericordia e poi alle 18 e 20 il santo rosario alla madonna io vi mando un abbraccio forte forte e soprattutto ci uniamo sempre in questa accordata d'amore e di preghiera ciao a tutti grazie a tutti